a sabato mattina siamo pronti a partire una cannellata video un video un video ragazzi siamo riducendo la salita di torre pozzetti a 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